Ben trovati con l'informazione a cura di Mediocalabria.net. Anche per questo weekend continuerà un tempo tutto sommato stabile, con qualche locale attenzamento ma senza fenomeni di rilievo. Con l'inizio della prossima settimana poi ci aspettiamo invece un nuovo cambiamento, verso condizioni decisamente più fredde. Il quadro per sabato 9 febbraio, cielo poco personalmente nuvoloso ovunque per tutta la giornata, mari poco mossi e venti di direzione variabile, temperature invariate. La previsione è per domenica 10, ulteriore bel tempo generalizzato, invariate le condizioni di mari e venti. Uno sguardo anche alla tendenza per luneri 11. Come già anticipato proprio con l'inizio della nuova settimana dovrebbe aversi un cambiamento del tempo a causa di una discesa di aria fredda artico-continentale. Possibile peggioramento nel corso della giornata, con piogge sparse sulle tirreniche ed isolate nevicate sui rilievi. Venti a motondoso in accentuazione, temperature in calo. Grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per la visione!